Le tasse a carattere locale pesano ancora troppo per le famiglie e le aziende. Anche nel bilancio 2014 il Comune si sta adoperando per ridurle. Tuttavia, prende atto l'amministrazione comunale dei risultati dell'indagine sulla fiscalità in Umbria, da cui emerge la posizione mediana di città di Castero rispetto a tutti i parametri del prelievo fiscale e la tendenza ad assestarsi sui valori minimi della statistica, in particolare rispetto alla spesa corrente, che nel Comune di Città di Castello risulta praticamente ferma da anni. Questo è il commento del sindaco Tifernate Luciano Bacchette e dell'assessore alle finanze Mauro Alcherigi ai dati contenuti nel dossier Il quadro della fiscalità locale nei principali comuni dell'Umbria, redatto dal Centro Studi Sintesi e commissionato dalla CNA. Lo studio non è soltanto una classifica, ma un indicatore importante per quanto gli enti locali stiano facendo per ridistribuire sul territorio l'impatto finanziario delle politiche di riequilibrio dei conti pubblici. Ogni decimale ha un preciso effetto sulle condizioni materiali delle famiglie e delle cifre di città di Castello, contiene ottime e significativi sforzi prodotti per spalmare i sacrifici in modo proporzionale alla realtà e alla capacità di reddito dei cittadini. Grazie ad un'articolazione ragionata delle aliquote alle compensazioni tra agevolazioni e contributi, il sistema fiscale costruito in questi primi tre anni di legislatura ha dato risposte sia di carattere anticiclico che strutturale, affiaccando alla convenzione con le banche per i prestiti all'impresa e ai pagamenti ai fornitori costistenti investimenti urbanistici nel centro storico. Plafond di finanziamenti per i servizi ed il terziario nell'ambito del PUC2, misure straordinarie a sostegno delle fasce deboli senza intaccare capillarità e qualità dei servizi erogati ai cittadini.